C'era una volta il digital divide, la connessione lumaca e il download inarrivabile se si viveva in un comune dell'Appennino. Lontano dalla città e dal cablaggio veloce della fibra ottica, la DSL era un sogno che soltanto in pochi potevano permettersi. Adesso si parlano altre lingue, è arrivato il 5G in sperimentazioni nella città dell'Aquila e la superfibra che permetterà di navigare su internet a un'altissima velocità di connessione. E' questa l'infrastruttura che sta realizzando Open Fiber in centinaia di comuni in Italia, 190 quelli abruzzesi, in cui sarà possibile navigare fino a un gigabyte al secondo con una rete in fibra ottica che arriva direttamente dentro le case. A realizzarli appunto Open Fiber nell'ambito dei bandi Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico e con la compartecipazione della Regione Abruzzo. La commercializzazione dei servizi in Abruzzo parte da San Pio delle Camere, uno delle centinaia di comuni montani in cui gli operatori delle telecomunicazioni non hanno interesse a investire. Primo utente abbonato è un artigiano di San Pio delle Camere. Primo intervento che diciamo volge verso lo sviluppo, verso la sopravvivenza di questi territori perché comunque è un'opera che avvicina questi territori al resto del mondo. Oggi la nuova fase del piano bull della banda ultralarga è stata illustrata nella sede del comune appena ristrutturato dopo il sisma, alla presenza del Presidente della Regione Marco Marsiglio, dell'amministratore delegato di Infratel Domenico Tutini, dell'amministratrice delegata di Open Fiber Elisabetta Ripa. Come Abruzzo stiamo realizzando la rete e siamo già attivi in 120 comuni. Abbiamo aperto la commercializzazione già in 12 comuni e oggi quindi abbiamo visitato il primo cliente che ha richiesto il servizio verso un nostro operatore. Se non c'è un collegamento simmetrico tra download e upload è difficile convincere un artigiano, una piccola azienda a virtualizzare i propri servizi infrastrutturali, i sistemi informativi e andare sul cloud. Perché sono più importanti in questi territori che in altri? Perché dove qui c'è sempre l'interrogativo se conviene mantenere la propria attività.